60 aziende presenti, 800 studenti e giovani laureati, 12 workshop, 8 seminari, una tavola rotonda, stand e presentazioni aziendali. Sono questi i numeri del Career Day 2018 che l'Università di Camerino e Confindustria Macerata hanno organizzato nella giornata di giovedì 19 aprile presso il Relais Borgo Lanciano. Il Career Day rappresenta la principale occasione di incontro tra studenti ed aziende. Laureandi, laureati e dottorandi hanno avuto l'opportunità di incontrare le imprese, conoscere i responsabili delle risorse umane, sostenere colloqui conoscitivi e lasciare il proprio curriculum vite. Le aziende partecipanti hanno invece avuto la possibilità di presentarsi, far conoscere la propria realtà e le opportunità offerte ai giovani laureati, raccogliere candidature per le posizioni di lavoro aperte. L'evento si è aperto con i saluti del Rettore Unicam Claudio Pettinari, del componente Comitato Piccola Industria Confindustria Macerata Chiara Ercoli, del Sindaco di Castelremondo Renzo Marinelli, mentre gli interventi introduttivi sull'organizzazione della giornata sono stati a cura della professoressa Elisabetta Torregiani, delegata del Rettore Unicam ai rapporti con le imprese. Nel corso della mattinata si è poi tenuta anche la premiazione dei vincitori del bando Fondazione Mike Bongiorno, dedicato agli studenti Unicam e volto a premiare il merito e ad incentivare la passione dei giovani studenti. A premiare i tre vincitori, ai quali è assegnata una borsa di studio del valore di 3.000 euro, è stato Nicolò Bongiorno, presidente della Fondazione, insieme al Rettore Pettinari. A premiare i tre vincitori, al Rettore Pettinari.